Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano in compagnia del sindaco di Belmonte per un'iniziativa lodevole che è quella dell'inaugurazione del castello di Savuto qui a Cleto. Perché è importante essere qui oggi? È importante perché la politica oggi si svolge nell'ambito di una validità e di promuovere il territorio non ne chiuso nelle proprie mura né tantomeno nei confini del proprio territorio, del proprio paese visto come ente istituzionale autonomo ma bisogna pensare a vedute più ampie e quindi un sinergismo di forze che in effetti ci deve accompagnare tra le istituzioni affinché questo nostro territorio possa veramente decollare una volta per tutte. Quindi iniziative del genere sono importanti per valorizzare il territorio, per riportare il turismo in Calabria? Certamente, sicuramente, gli stessi piani strutturali e tutte le iniziative lodevole che in effetti ci vedono accompagnati in questi percorsi e sono delle iniziative che devono tenere conto delle peculiarità di ogni singolo paese abbracciate uno con l'altro in modo che laddove c'è da promuovere la montagna si può promuovere la montagna dove i centri storici, i centri storici, dove il mare, il mare. Quindi noi abbiamo questa bellezza naturale 800 km di coste e tutte frastagliate che possiamo godere, abbiamo un patrimonio ricco di collina, montagna e mare e ne dobbiamo sapere approfittare nel senso buono di poter promuovere il nostro territorio per il turismo e per tutto e per anche le iniziative di sviluppo locale. Perfetto, Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie a tutti.